Dopo un'ampia discussione sui gravi eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una serie di atti di indirizzo presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione a sostegno delle popolazioni colpite. Le risoluzioni prevedono richieste di sospensione dei mutui, agevolazioni per le attività produttive e un ammortizzatore sociale in favore dei datori di lavoro costretti a sospendere le attività. È stata anche chiesta l'estensione dello Stato d'emergenza nazionale alle province di Lucca, Massacarrara e parte del territorio della provincia di Arezzo. Altre misure riguardano la possibilità per i medici specialisti di trasferire la loro operatività in strutture alternative. L'intervento su le segnalazioni riguardanti i rischi sanitari della gestione dei rifiuti e dei fanghi e l'individuazione di aree atte alla realizzazione di casse di espansione anche per i reticoli minori. Ecco che ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto cinque province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire otto persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei riquami e degli spurghi, sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile e dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere, nella nostra forza. Ora quello che dobbiamo fare è individuare i comuni maggiormente colpiti, rendere agenti operativi del commissario, del sottoscritto, i sindaci di questi comuni che devono provvedere a fare la ricognizione dei danni alle persone e alle imprese e sotto questo aspetto dopo questo elenco noi possiamo incominciare a passare la liquidazione delle prime risorse per poter risarcire coloro che hanno avuto danni alle case, alle abitazioni, alle imprese, ai laboratori, ai luoghi dove si lavora. Intanto c'è da sottolineare l'atteggiamento e il confronto dibattito costruttivo che si è svolto in Consiglio. quindi il Consiglio tutto maggioranza opposizione ha tenuto un atteggiamento consono di solidarietà di rilievo relativamente a questa tragedia che è accaduta in alcune parti della nostra regione. Sono stati approvati alla fine di questo dibattito diversi atti in maniera unanime, sia presentati dalla maggioranza che dall'opposizione, alcuni sono stati rinviati in commissione perché hanno bisogno di approfondimenti e di un ragionamento maggiormente articolato. Tra gli atti approvati ovviamente la nostra risoluzione che oltre ad un ringraziamento al Presidente Gianni, ora commissario per quanto riguarda la situazione di crisi, all'assessore Monni, ma con loro a tutta la protezione civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, tutti i volontari, tra i quali questi straordinari giovani, molti studenti che da subito si sono presentati e si stanno presentando per aiutare in quelle che sono le operazioni ora maggiormente necessarie per tornare alla normalità. Quindi la nostra richiesta è indirizzata al sostegno nei confronti del Presidente Gianni che è appunto il commissario in questo momento per la situazione di crisi affinché possa svolgere con la maggiore forza, la maggiore serenità tutte quelle che sono le operazioni a sostegno delle imprese e delle famiglie per far ripartire le lavorazioni, per sgomberare le strade, per smaltire i rifiuti, insomma per cercare di recuperare una normalità dopo quello che è accaduto sperando anche che il maltempo che si riaffaccia non sia delle proporzioni che hanno provocato queste alluvioni. Dopodiché noi abbiamo anche richiesto che ci sia un impegno per quanto riguarda l'estensione del riconoscimento della calamità naturale, non soltanto alle cinque province che l'hanno già avuto ma anche alla provincia di Lucca, di Massacarrara e a parte del territorio della provincia di Arezzo perché anche da questi territori sono stati segnalati dei danni subiti da strutture pubbliche e anche da strutture private. Quindi credo che ci siano le condizioni ora per marciare uniti, per dimostrare una compattezza perché la Toscana è di tutti, perché i toscani e le toscane hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni e la collaborazione deve essere massima fra governo, regione, amministrazioni locali. Dopodiché verranno anche i tempi nei quali faremo gli approfondimenti, sarà necessario vedere quello che ha funzionato di più, quello che ha funzionato di meno, quello che potrà essere magari aggiustato o corretto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La cosa che io ho voluto segnalare è anche accanto alle esigenze di fare opere di mitigazione delle piene come il rafforzamento degli argini, e la manutenzione ordinaria che devono fare i consorsi, le casse di espansione. Anche una riflessione su chi negli anni passati e ancora oggi, accanto al quasi disconoscimento dei cambiamenti climatici, che sono comunque una parte importante nel provocare questi fenomeni così violenti e così devastanti, anche una valutazione e ripensamento rispetto alla nostra legge urbanistica. Una legge che tra l'altro mette al centro della pianificazione dei comuni la carta del rischio idraulico e idrogeologico e quella del rischio sismico. Ecco, credo che chi magari in passato ha pensato che questa legge era eccessiva o che addirittura andava smantellata nel versante del centro d'est, oggi forse potrà invece apprezzare queste previsioni. Sì, abbiamo presentato degli atti appunto generali per l'emergenza che stiamo attraversando, abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana, ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera, quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca e abbiamo approvato appunto un atto dove abbiamo chiesto che ci sia una sburocratizzazione dell'iter procedurale perché non dimentichiamo anche la calamità naturale che ha attraversato le varie province nel giorno del 31, del 30 e del 31 ottobre. Quindi un preallarme all'alluvione che abbiamo attraversato e da lì l'area costiera è stata colpita più volte appunto e che ha creato danni agli stabilimenti balneari, alle attività produttive ma anche a tantissime famiglie che ancora oggi si trovano senza luce, senza acqua e sono sfollate. Due atti generali che sono stati rimandati in commissione invece di un'attenzione più generale a tutta la Toscana su cui c'è bisogno di un approfondimento perché abbiamo chiesto che la terza variazione di bilancio che si va a discutere nel prossimo Consiglio regionale non sia quella che Gianni ci ha presentato prima della catastrofe che è avvenuta ma che sia una variazione dedicata non interamente ma quasi appunto alle famiglie e alle imprese colpite da questa alluvione. Quindi a breve si svolgeranno le commissioni ed andranno a realizzare anche questi atti più specifici e poi abbiamo chiesto che la legge regionale 45 del 2000 quella che prevede l'iter burocratico diciamo di stato di emergenza regionale sia completa nei tempi più veloci perché il termine massimo è di 30 giorni ma non possiamo attendere 30 giorni che la Giunta decida appunto tutte le province coinvolte decida quali sono i danni appunto e quali sono le risorse che la Regione mette a disposizione per poi andare allo step successivo che è quello di richiedere le risorse al Governo 30 giorni sono troppi la Regione si deve velocizzare e ci aspettiamo che già nella prossima riunione di Giunta di lunedì si pare del tema e si dia delle risposte ai cittadini toscani. Abbiamo consapevolezza del momento insieme agli altri capigruppo ai gruppi consigliari in Regione Toscana abbiamo scelto una linea molto chiara che è stata quella naturalmente di criticare l'evento ma anche di essere propositivi. Il Governo Meloni, il Governo di Centrodestra ha già portato in questa Regione alcuni aiuti importantissimi. è venuto il Vice Premier Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo per tutto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato e sono 300 milioni che il Governo di Centrodestra ha portato due giorni dopo in questa Regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo Stato di emergenza 5 milioni ha messo il Governo ma è soltanto un primo strep. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale penso per esempio a un ordine di giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni allovenati per le attività commerciali di anticipare il periodo dei saldi questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica Avedo Valdarno Bottino in Commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo quali sono i reticoli secondari i torrenti che sono esondati quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli ultimi 15 anni cosa è successo i codici l'allerta se il meccanismo ha funzionato il piano regionale contro le alluvioni se è stato un piano che ha consentito di rispondere in maniera immediata efficiente rispetto alle esigenze ci sono ancora tanti cittadini che sono fuori casa ci sono ancora tante case alluvionate ci sono ancora imprese che stanno smaltendo i rifiuti sarà un periodo molto difficile per le nostre imprese e per la nostra regione ci sono famiglie in mezzo alla strada ci sono soltanto a Campi ancora più di 100 famiglie che non hanno luce ed elettricità per quanto ci riguarda noi abbiamo anche attivato con i nostri partiti una serie di iniziative a sostegno delle famiglie raccolta di materiale anzi lanciamo come capogruppi anche un appello a portare i generi di cui hanno bisogno le famiglie non soltanto vestiti ma generi alimentari ma soprattutto anche materiale per pulire hanno bisogno di scopi hanno bisogno di moscia hanno bisogno di liquidi per pulire il fango sappiamo benissimo che il fango era usato per le costruzioni il fango è cemento se non viene tolto subito poi è difficile anche da togliere come forze di centrodestra quindi abbiamo fatto un'azione responsabile in consiglio regionale ciò non toglie che da oggi comincia anche un momento per capire se quello che è successo poteva essere evitato io credo che il centrodestra in questi due giorni di discussione sull'alluvione abbia fatto un servizio ai cittadini e alle cittadine di tutta la Toscana ha fatto un servizio evidenziando in maniera seria e puntuale tutto quello che non ha funzionato non per fare polemica ma perché è giusto che la regione toscana la politica tutta metta l'attenzione focalizzi l'attenzione su quello che è andato storto perché se oggi fossimo qua a raccontare che è stato tutto bene è andato tutto bene che ha funzionato tutto e che tutto è andato nella maniera migliore ovviamente non saremo a commentare un disastro che ha visto nuove morti a cui va nuovamente la nostra solidarietà ha visto città intere distrutte e ha visto cittadini che ancora oggi sono senza luce e senza acqua a casa abbiamo fatto un servizio abbiamo ottenuto oggi con gli atti di cui hanno già parlato i colleghi Stella Meini aggiungo quelli che ha portato Fratelli d'Italia cioè un atto dove finalmente si sancisca e si scriva nero su bianco che anche le province di Massa e di Lucca e una parte della provincia di Arezzo hanno subito danni perché nei giorni scorsi era tutto un rincorrersi e un cercare di capire se queste province stessero o no all'interno dello stato di emergenza oggi abbiamo portato un atto in aula che è stato approvato e che sancisce in maniera netta che l'emergenza riguarda anche loro che porta alla costruzione e al proseguimento della realizzazione delle barriere che mettono in sicurezza la città di Pisa abbiamo visto che il pericolo non arriva soltanto dal cielo ma arriva anche dal mare e quindi servono opere che mi fighino e che mettano in sicurezza le città costiere questo oggi era quello che noi potevamo fare poi ci sono tutte quelle domande che i cittadini ci fanno e a cui è giusto dare delle risposte e questo lo faremo nei giorni prossimi nei giorni a venire con le commissioni con gli strumenti che abbiamo a disposizione La Toscana ha fatto la Toscana cioè un atto unitario votato all'unale minimità per me è una soddisfazione che porta alla mia prima firma un'intuizione quella di tenere insieme tutte le forze politiche perché si potesse chiedere al governo di inserire anche le province di Lucca di Massacarrara e parte della provincia di Arezzo nella dichiarazione di stato di emergenza è evidente che ci sono una modalità una modalità differente di interventi di danni subite dalla popolazione la differenza la faranno le schede ovviamente che segnaleranno le difficoltà percepite dai singoli territori però è importante che tutti i partiti non si dividessero su questo aspetto e della Toscana arrivasse una voce unanime il voto è rimasto unanime e compatto e questo credo che sia stata la cosa più importante un atto che quindi porta la firma dei principali capogruppo presenti e dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale della Toscana quindi un appello forte che dà forza al nostro presidente Eugenio Giano di relazionarsi con Curzio con la protezione civile col quale abbiamo già informato e attivato una relazione diretta anche personale per il tramite della coordinatrice nazionale in questo caso del mio partito della Paita Allora sulla relazione del presidente Gianni in aula mi sono già espressa l'ho ritenuta assolutamente insufficiente rispetto anche al ruolo che lui svolge perché tutto quello che ci ha detto lo sapevamo già sia perché leggiamo i giornali sia perché quasi la totalità dei consiglieri regionali è andata sul posto a vedere con i propri occhi cosa è successo avremmo desiderato avere dati maggiori su che cosa è stato fatto quante famiglie sono state senza energia elettrica come sono stati risolti i problemi quando sono stati risolti insomma dettagli maggiori su quello che è stato fatto non li abbiamo avuti però riceviamo costantemente dai territori colpiti notizie che non sono rassicuranti l'emergenza è ancora in atto non più tardi di ieri sera alle 10 io ero al telefono col vicepresidente del consiglio comunale di Campi che mi diceva che esiste un solo sito di stoccaggio per i rifiuti che vede lunghe file di camion in attesa di questo passo ci vorranno mesi per poter portare via quella montagna di rifiuti quindi la situazione a nostro avviso non è risolta l'emergenza non è diciamo guidata e lo dimostra anche il fatto che molte cantine molti seminterrati sono ancora allagati e sempre i nostri volontari consiglieri comunali di Firenze mi facevano presente che hanno liberato otto case dall'acqua ma portando loro le pompe perché quelle dei vigili del fuoco hanno un diametro troppo grosso che non riesce a portarvi all'acqua perché il diametro così grosso prevede la completa immersione del tubo insomma problemi organizzativi che fanno capire che c'è qualcosa che non funziona nella catena di comando a me dispiace dire queste cose in una fase in cui vorrei sinceramente che non ci fossero polemiche e vorrei che tutti si rimasse nella stessa direzione e ho trovato veramente brutto anche questo continuo rimpallo di responsabilità lo deve fare la regione lo deve fare il comune lo deve fare il governo veramente questa cosa stanca i cittadini non hanno bisogno di questo hanno bisogno che tutti si faccia qualcosa per aiutare quelle popolazioni non hanno bisogno Grazie a tutti.